Ma ci siamo, lunedì prossimo 17 dicembre scadrà il pagamento del saldo IMU, la tassa sulla casa. Tra caos e corsa in banca si evidenziano i primi dati, li ha tirati fuori la Will. Il saldo IMU eroderà il 42% delle tredicesime degli italiani. Complessivamente si pagherà per l'IMU una cifra di 23,2 miliardi, 13,6 miliardi con il solo saldo di dicembre. Insomma, il Ministero dell'Economia incasterà oltre 2 miliardi in più rispetto alla stima preliminare fatta lo scorso anno. Il perché è dovuto alle decisioni dei comuni di aumentare le aliquote ai livelli più alti. Per quanto riguarda la prima casa, il gettito finale sarà di 3,8 miliardi, mentre altri 19 miliardi entreranno dalle tasse pagate dagli italiani dalla seconda casa in su. Ma dove finiranno questi soldi pagati dalle famiglie? La maggior parte affluiranno nelle casse comunali, anche se i sindaci sostengono che servono a coprire i tagli applicati dal governo. Oltre 14 miliardi quindi ai comuni, mentre 8 miliardi finiranno nelle casse statali. La città con il maggior gettito è quella di Roma, che incasterà complessivamente dall'Imu 2 miliardi di euro da dividere con lo Stato. Segue Milano 1 miliardo di euro, Torino 546 milioni, Genova 336 milioni, Napoli 321 milioni. C'è poi una considerevole differenza per il pagamento della prima casa o della seconda abitazione. Nei dati Will si evidenza che a Roma l'Imu sulla prima abitazione costerà mediamente ai cittadini 639 euro, a Milano 427 euro, Rimini 414 euro. Ma se si analizza la seconda casa a Roma, le famiglie dovranno sborsare mediamente 1885 euro, a Milano 1793 euro e a Bologna 1747 euro.